8.000 di ante! Ante! E' più! E ciao a tutti ragazzi! Allora sto facendo questo brevissimo video per avvisarvi che è notte, si nel server è notte e c'è un brutto tempo come potete vedere, sembra il tempo c'è un brutto tempo essenzialmente quindi io vi invito a venire in live perché dovremmo scoprire il perché c'è questo brutto tempo e sinceramente non lo so sta di fatto che è un casino quindi ragazzi venite in live alle ore 17 troverete il link del live qui sotto in descrizione e ragazzi seriamente abbiamo tante cose da fare dobbiamo passare di era e l'unica cosa che manca siete solo voi però aspettate mi metto le mie scarpettine ok no ok sto cazzo ok fatto quindi alle ore 17 in live non mancate ai zombie aiuto aiuto vi aspetto alle 17 in live non mancate